commetto che anche voi avete dei filetti di merluzzo surgelati in freezer dimenticati provate a sminuzzarli, aggiungete prezzemolo, aglio, uovo, pizzico di sale, parmigiano, pangrattato e iniziate a mescolare e impastare con le mani formate delle palline e passatele nell'albume e poi nel pangrattato io questa volta ho deciso di farle fritte ma se volete potete cuocerle anche al forno con una spruzzatina di olio extravergine di oliva scolatele quando saranno ben dorate su carta assorbente apritele e provatele sono buonissime, facilissime e adesso allacciate le greviule e provatele anche voi